A meno di 48 ore dall'entrata in vigore delle prime misure che introdurranno l'uso del Green Pass in diversi contesti, va delineandosi anche il quadro d'azione per i settori su cui l'utilizzo della certificazione verde non è stato ancora chiarito. La cabina di regia nazionale dovrebbe confermare nelle prossime ore, salvo modifiche dell'ultimo momento, la regolamentazione anche per il mondo della scuola. Diverse le ipotesi circolate fino ad oggi sul tema dei vaccini obbligatori per tutti i soggetti che ne fanno parte. La stretta finale del governo però dovrebbe prevedere il possesso del Green Pass soltanto per docenti e personale ATA, lasciando quindi fuori dall'obbligo gli studenti. Una soluzione promossa dal presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi e dirigente del liceo scientifico Marconi di Pesaro, Riccardo Rossini. Quello che si deve fare è iniziare in sicurezza e secondo noi dirigenti scolastici sicurezza significa avere il Green Pass. Tutto il personale scolastico deve essere vaccinato. Con gli studenti magari qualche dubbio in più ce l'abbiamo. Ovviamente gli studenti si possono immunizzare fra loro, corrono meno rischi, però credo che per iniziare in sicurezza si debba avere il Green Pass. Il personale scolastico sicuramente è auspicabile che anche gli studenti lo abbiano. Noi siamo messi piuttosto bene, abbiamo una percentuale di circa l'85% dei vaccinati fra personale scolastico divisi in docenti e personale ATA, però dobbiamo arrivare al 100%. Secondo noi devono essere tutti vaccinati tranne coloro che non lo possono fare per questione di salute. È chiaro che se c'è un docente in situazione di fragilità, quindi per questione di salute, non può vaccinarsi, allora a quel punto noi possiamo anche attivare una didattica a distanza che preveda che il docente rimanga a casa e la classe sia a scuola e veda l'insegnante nel televisore, sostanzialmente. Ma se per una questione ideologica di principio no, ci deve essere una normativa chiara, non possiamo lasciare il cerino in mano ai dirigenti scolastici. Il governo ci deve dire esattamente cosa fare con coloro che si rifiutano. Non noi siamo un organo di polizia, noi applichiamo la legge, però è chiaro che se il governo decide che all'interno della scuola entrano soltanto coloro che sono vaccinati o che hanno il green pass e noi quello dobbiamo applicare. Come sottolineato dallo stesso Rossini, il comparto scolastico è inoltre in attesa di conoscere le normative aggiornate per il rientro in classe. Tra i principali nodi da sciogliere, oltre al tema della vaccinazione, la conferma sul ritorno completo alla didattica in presenza, l'utilizzo delle mascherine per i soggetti vaccinati e l'organizzazione dell'attività di tracciamento.